Ciao a tutti, torniamo a puntuale il nostro appuntamento per sottolineare le ultime novità di Giudici Moto, oggi abbiamo la bellissima Monster 620 iniezione del 2003, una moto con soli 19.000 km, mantenuta meccanicamente veramente perfetta, appena tagliandata, desmodromica fatta, quindi è una moto veramente eccezionale. La cosa bella della 620 sicuramente è l'intramontabilità di Bucati, una delle moto più vendute veramente nel loro segmento. Se volete venire a scoprire questo fantastico gioiello ci trovate a Carono Pettoselle via Benzizzi 800 oppure sul nostro sito internet www.giudicimoto.it